In Abruzzo e l'Aquila l'esperienza di criminalità risulta più bassa della media nazionale, 11% rispetto al 16%, ma rispetto all'anno scorso il 32% degli intervistati ritiene che la sicurezza per l'impresa sia diminuita. Relativamente ai reati risultano maggiormente presenti accattonaggio, presenza di tossicodipendenti e spaccio di droga, prostituzione e occupazione abusiva di case. Sono questi alcuni dei dati diffusi nel corso della manifestazione Legalità Mi Piace, nell'ambito della giornata nazionale di mobilitazione promossa dalla Confederazione Nazionale, cui hanno partecipato il prefetto dell'Aquila Francesco Alecci, i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, il direttore dell'Anci Abruzzo e il presidente e il direttore di ConfCommercio Roberto Donatelli e Celso Cioni. In collegamento streaming dalla sede nazionale di ConfCommercio sono intervenuti anche il ministro dell'Interno Angelino Alfano e il ministro della Giustizia Andrea Orlando. Si è provveduto alla diffusione dei risultati emessi dall'indagine di ConfCommercio sui fenomeni criminali, sia a livello nazionale che con un focus riguardante i dati regionali e delle quattro province abruzzesi, sulla percezione dell'andamento della criminalità, sulle tipologie di crimini in maggior aumento sulle iniziative più efficaci per la sicurezza delle aziende, e dall'ufficio studi ConfCommercio sulle problematiche presenti nei territori dell'Aquila, di Chieti, Pescara e Teramo in termini di occupazione, pil, consumi, nascita, mortalità e imprese.